Per Fiera Milano, Eagle One ha rappresentato l'upgrade al già ottimo prodotto equilibrio, sempre di Lefebvre Software, con il quale abbiamo consolidato i bilanci degli ultimi esercizi. Il progetto si è svolto nel corso del 2010 e ha comportato un ridotto utilizzo delle giornate di consulenza, essenzialmente per la ricostruzione dello storico, per il parametraggio e per la formazione degli utenti. Questo ci ha permesso di contenere sia i costi diretti, sia i costi di struttura, favorendo anche Lefebvre Software nell'ambito della Software Selection. Con l'occasione abbiamo anche rinnovato i nostri reporting package, per i quali abbiamo sfruttato le maggiori dimensioni di analisi di Eagle One e la facilità nel suo parametraggio. Abbiamo quindi uniformato tutti i package e le informazioni in esse presenti, sia per il bilancio civilistico che per il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Inoltre, nel reporting package sono altresì presenti tutte le informazioni richieste dalla regolamentazione consul. Abbiamo inoltre uniformato il flusso di informazioni derivanti dalla contabilità, sia per Eagle One, sia per IVS, che è il nostro modulo che utilizziamo per le riconciliazioni intragruppo. Eagle One, quindi, oltre ad importare facilmente i dati dalla contabilità generale, che è attualmente gestita da un prodotto Oracle, grazie alla sua interfaccia grafica di Excel permette l'estrazione facile di alcuni file necessari alla costruzione della nota integrativa. Abbiamo quindi ottimizzato anche i tempi per la redazione del bilancio. Ci manca solo un punto del progetto, che è quello di esportare il reporting package alle consociate estere. Necessitiamo ancora di qualche giorno di istruzione e di formazione del personale sul reporting di gruppo. In sostanza, Fira Milano e Lefeb Software hanno collaborato già da anni per il consolidato e pensiamo di ampliare l'utilizzo di Eagle One anche in altri ambiti aziendali, ovviamente sempre nel settore finance, confidando, come al solito, sulla fattiva e proficocollaborazione dei consulenti Lefeb Software.